Una diretta Facebook sulla pagina di Confesercenti Arezzo, così andrà in rete la videoprotesta dell'Associazione di Via Fiorentina ad Arezzo sabato 2 maggio alle 11. I negozianti potranno far sentire la loro voce ed esprimere la loro contrarietà al DPCM del 26 aprile chiedendo di tirare su le saracinesche il 4 di maggio. L'Associazione di Categoria ha raccolto la voce degli associati ed ha voluto fare da megafono ad una richiesta necessaria per far tornare a vivere il mondo del commercio. Il collegamento dei commercianti con il direttore Mario Checaglini e il presidente Mario Landini sarà attraverso la piattaforma Zoom da dove partiranno le richieste all'indirizzo del premier Giuseppe Conte. Il DPCM afferma che Caglini con la proroga delle chiusure a zera gli incassi senza individuare misure di sostegno. Dopo 60 giorni di paralisi c'è chi non ha ancora ricevuto i 600 euro, unico reddito in ben due mesi. Per di più non c'è certezza se i 25 mila euro, che sono comunque un debito, arriveranno. Di fatto ad oggi tutto questo non è sufficiente, nonostante le promesse è evidente che le imprese sono state lasciate sole. C'è tempo per decretare l'apertura del 4 maggio anche per negozi, bar e ristoranti.